Siamo tornati con un'altra stronzata, stavolta molto più fettita, perché oggi abbiamo in servo frutticao, fragole e cacao, che sa di sciroppo appeso da bambini, quelli brutti che sogliavano sempre, ma i bambini. Baccardi Breezer a lime, il peggiore che abbiamo potuto trovare, fettito, su quella arrabbiata, che Andrea può farci vedere l'etichetta. Non so come dosarci, sinceramente, a questo però infatti farò fare a Samuolo. 33,33,33 è l'1% di fantasia. Sì, eppure magari aggiungiamo qualcosa a caso. No, dai, gli ingredienti erano questi, evitiamo di fare altri video. in cui decidiamo cosa mettere. Il pubblico si sta lamentando. Se Samuolo riuscisse per il volume... Scusate. Sembra scat, sinceramente. Scusate. Da notare... Vimpi. No, stai scherzando, il sugo è l'arrabbiata. Dio mio. André, ne abbiamo? Non so come facciate. Inizia a girare. Molto. Che bontà. Ragazzi, che bontà. Samuolo. Che c'è manno? Scusate, per la ripresa vado a vado a dorare. Aspetta. È finito. Puzza. Beh, come è stato finito? No. È questo? È così, puzza. Mario, se ti ricordi quando ti svegliamo il tuo vomito. Sadi il vomito, scusa. Mincia. Ok, sa di il vomito. Fortunatamente di questo non possiamo fare il bis. Grazie, c'era. Scusate, scusate, noi già abbiamo il pubblico. Lei cosa ne ha pensato? Beh. Non le abbiamo scelte, eh? Non le abbiamo scelte, eh? Niente, un attimo. Mi ha fatto a cagare. Io ho una fottuta paura. Merda. Stai fermo, dai. Sapete che dovete berlo? Dovete girarlo, poi berlo subito, perché tanto ti notterà meglio un tuttuno. Perché mi siede? Perché se un'università, sa, gira. Aspetta, se vuoi mi si toffia un coltello. Mi si toffia un coltello. Mi si toffia un coltello. Perché? Ma così poi ci bombiamo. Allora, guardarci. Siamo già tre minuti, eh? Questa è un coltello. Ho aggiunto il tuo. Beh. Vabbè, facciamo, facciamo. Alla nostra, spero. Uno, due, tre. Non mi ha vomitato. C'è un coltello. Ancora. C'è un coltello un po' sbotto. Ho comunque un coltello. Un coltello, due. Un coltello. È un coltello. È un coltello. Sono lei che ti batti. Un coltello. Consigliato. Sa? No, 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 io non lo posso più bere da lì adesso Cazzo, c'è qualcosa che è bombata Fa schifo il culo Quei pezzettoni di pomodoro che cadevano E' quello che non ce l'ho fatta All'inizio, mi sono legato a metà Un po' così moca Esattamente Io ho detto quanto mi volto Ma? Eh, che già ti piace quando mi volto